Finale di Montecarlo che praticamente non c'è stata facile vittoria di Zilzipas per un duplice 6-3, 6-3, 6-3, Tommasi l'avrebbe chiamato periodico medio ma qui la mediocrità l'ha avuta Rublev, che è stato dominato dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo 15, break immediato nel primo game di servizio e Zilzipas che vola 3-0, Rublev incapace di opporre una minima resistenza alla pressione da fondo del greco che saliva anche a rete a prendersi i punti, ripeto, partita totalmente dominata, finale a senso unico e niente da dire, insomma, bellissima e grandissima vittoria di Rublev, di Zilzipas, Rublev, ripeto, nel secondo sette anche peggio perché è stato breakato due volte, non ha mai avuto mezza possibilità, Zilzipas non ha concesso pale break in nessuna delle partite, raramente sul servizio di Zilzipas, Rublev è arrivato a 30, quindi niente, è praticamente inutile parlare di questa finale, una finale dominata dal primo all'ultimo 15, Zilzipas ha fatto vedere di non aver vinto le finals a caso, ecco, non ha vinto le finals a caso, oggi ha fatto vedere che insomma è meglio di Rublev, lo è sulla terra, probabilmente lo è anche sulle altre superfici, però ecco, la terra di Monte Carlo che già è lenta di suo, non ha aiutato Rublev, ripeto, Rublev è in difficoltà praticamente, su ogni turno di servizio, l'altro inavvicinabile per avere un break, è un 6-3-6-3, tutto sommato anche abbastanza generoso nei confronti del russo, che poteva perdere in maniera molto più netta e molto più mortificata, 6-3-6-3 ci sta tutto, niente, questi due si ritroveranno, se tutto va come deve andare, in semifinale a Barcellona e la rivincita potrebbe essere lontana solo 6 giorni, è stata un'esecuzione spietata da parte del greco, poco altro da aggiungere, se non che vittoria meritatissima, primo slam, primo 1.000 meritatissimo di Tsitsipas, un raro caso in cui vinci prima le finals di 1.000, comunque giusto così, poco altro da aggiungere, da domani parte Barcellona, sarà un'altra storia e vediamo insomma il 500 di Barcellona se dirà qualcosa di diverso, intanto mettete like al video e iscrivetevi al canale.